Nell'episodio di oggi parleremo delle proposizioni limitative. Cominciamo come al solito leggendo un esempio e leggiamo questo periodo. Secondo quanto dice l'allenatore oggi non si gioca. Si tratta di due proposizioni, una la proposizione reggente oggi non si gioca e una seconda proposizione subordinata secondo quanto dice l'allenatore. Concentriamoci su questa seconda proposizione. Subordinata e proviamo a trasformarla in un complemento. Secondo quanto dice l'allenatore può diventare Secondo l'allenatore oggi non si gioca. Secondo l'allenatore è un complemento di limitazione e quindi nel periodo che abbiamo letto precedentemente la proposizione subordinata secondo quanto dice l'allenatore è una proposizione limitativa. A questo punto possiamo definire la proposizione limitativa come una proposizione subordinata, l'abbiamo vista nella slide precedente, che delimita quanto affermato nella reggente. Anche questa proposizione è una proposizione circostanziale. Andiamo a vedere in quale forma posso trovare la proposizione limitativa. Posso averla tanto in forma esplicita quanto in forma implicita. E ma vediamo nello specifico. In forma esplicita lo posso avere con l'indicativo. Andiamo a leggere l'esempio. Secondo quanto dice l'allenatore oggi non giochiamo. Si tratta più o meno della proposizione su cui ci siamo puntati all'attenzione all'inizio. E troviamo appunto il verbo all'indicativo dice e un introduttore secondo quanto. Quindi nella forma esplicita noi possiamo trovare la proposizione imitativa con l'indicativo introdotto dal secondo quanto. Ma oltre a secondo quanto, gli introduttori della proposizione imitativa possono essere anche secondo che, per quanto, per quello o limitatamente a ciò che. Ma la proposizione imitativa si può anche avere nel modo congiuntivo. Andiamo a leggere l'esempio. Che io sappia non viene oggi. Abbiamo appunto il verbo al modo congiuntivo sappia. Questa volta viene introdotto dalla congiunzione che. Possiamo dire che al congiuntivo, quando la limitativa ha la forma del congiuntivo, la congiunzione che introduce la limitativa è sempre che. Ora andiamo a vedere nella forma implicita come possiamo trovare la proposizione limitativa e la possiamo avere con l'infinito. Ma andiamo a leggere gli esempi. In questa frase la proposizione limitativa mangiare di fatto è costituita dall'infinito non retto da nessuna preposizione. Ma la stessa frase possiamo anche scriverla in questo modo. Per mangiare mangia. Abbiamo ancora il modo infinito, ma questa volta preceduto dalla preposizione per. La stessa identica frase la posso dire anche in quest'altro modo. Quanto a mangiare mangia. Ancora una volta la limitativa è caratterizzata dal modo infinito, ma questa volta preceduta dalla locuzione quanto a. E allora possiamo dire che nella forma implicita la proposizione limitativa si fa caratterizzata dall'infinito, preceduto dalle preposizioni per e a, oppure dalle locuzioni in quanto a. Quanto a.